qui sul giornale lo facciamo quando facciamo i video sai perchè lo dico? perchè io sono un canto non è poco è uno che se non gli si dice si offende e poi ti dice di no ma è dolissimo, è dolissimo non ho nessun problema ormai mentre invece con quest'altro ne ho qualcuno di più ma non lo si trova, non si sa mai dove trovarlo è una cosa complicatissima e di questi molto gravi, conosce molto bene l'argomento è il maestro, il motivo principale che hai visto che siamo due che sono due io e Luce Pevoraro e lui è il maestro di Luce Pevoraro e quindi Pevoraro mi ha detto ma ce l'ha invitato e lui ha detto ma verrà è il manuale la vecchina è il manuale la vecchina no ma io non metterei nessuno chi hai messo? per la fine siamo natura si mette a fare tutto elettrico quella volta che non ha funzionato io lascerei i cavoli si con le vecchia si, li ho preso anche qua no no, siccome si bastava ma adesso è volentieri non io sono dei coca non 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 perché perché mi non io metterei nulla, io metterei l'autore del volume e l'autore e poi se ci sono degli altri ma puoi mettere anche, guarda, io ti direi l'enchi, se viene, mi fa solo pensiero puoi venire, puoi mettere anche l'autore no, metti, metti, puoi mettere sicuramente Lucio Fevolano se viene a cartogliere il volume però nell'invito bisogna metterlo perché ti dico, è uno, sì tanto lui non legge, lui non legge i colleghi però se per caso chiede e non è nell'invito mi pianta una storia che non dice se sai com'è la gente io preferirei metterlo perché no, io lo metterei poi lui dice che non può perché mi ha invito perché me l'ha detto di non è difficile questa no, no, gli dico perché pensavo che sento ancora che si pensava ah ma io non posso se non metti Lucio Fevolano Antonio Reposo mi sta venendo una tavola nella pietra e poi invece chi è che presenta tu o presenta la la e quell'altro chi è che presenta tu o la chi è che presenta tu o la l'autore aspettiamo già l'autore però non ci vuole no, mi fa piacere che ci sia Mario perché qui si parla tra l'autore a portare mi ha Mirko perché si vede no, ma se lo hai pensato eh, che ecco prepara una cosa molto così si dici metti tutti questi i nomi che poi non verrà nessuno e chi sa che ci sono i nomi o il che senti dal Piso viene dal Piso viene Mario viene, io vi vengo, mi pare che bastiamo, mi pare che bastiamo, ma poi il titolo è molto affascinante, mi piace moltissimo perché mi dà questo senso che lui non voleva parlare delle cose, non voleva parlare delle cose, non voleva parlare delle cose, e lui dice non voleva parlare delle cose, ti pare una cosa bellissima, poi invece parlerò di quello di cui ho parlato oggi, quello di cui ho parlato oggi, oggi è stato molto divertente perché mi ha ventilato solo, non so nessuno di qua, ciao ciao ciao, ah se se se, ti giro lì, spiegare che la Mimina sta guardando un po' bene, ciao cari, allora andiamo, guarda lo stavamo trattando pure noi, oppure il cliente ha rinunciato, lo chiamiamo noi, vabbè ma allora quello di loro c'è qua qua, c'è qua, non è che c'è qua, è una sorta, e voi che siamo notte, diciamo basta non sequestrare i saci, vabbè non ci siamo mai, scegliere il presentatore, ma è una sorta di ricchezza delle persone. Grazie a tutti.